Oh va bene, allora parlate. Non sei la maestra, qui siamo maestre tutte e due. Ah, due con le maestrine. Eh sì, perché ti piace fare la maestra. No, mi piace essere serena, che è differente, mi piace essere leale, mi piace essere diretta. Sì, vabbè, non sei né leale né diretta, tanto che infatti Fernanda cosa ha detto? Che hai fatto tutto il complottino per farmi eliminare, per farmi votare. Ah sì? Vorrei chiedere conferma. Per favore, per favore, vieni, così chiariamo questa cosa. Sì, me l'ha detto di sera, ci sono le registrazioni. Io voglio vedere. Sì, sì. Io non ho mai, io voglio la registrazione. Che ha fatto tutto apposta di mettere d'accordo, di far fare la pace a voi per votare me. Allora, io vorrei una registrazione dove io dico, Fernanda, per favore, allora fai pace e poi mi raccomando, vota Rita. No, non dice così, le cose non si fanno in questa maniera. Allora, credimi Rita, sai la differenza qual è? Che mentre tu in tutte queste settimane hai sempre avuto il pallino delle nomination e hai sempre parlato di nomination e ti sei sempre informata gli altri che cosa avrebbero votato, di me non c'è un secondo dove io parlo di nomination. Sai che cosa parlo? Si vede che sei sempre lì, che hai capito, che cerchi di... Dopo che ho votato mi giustifico. Per esempio ho parlato con Denver e ho spiegato perché l'ho votato, che logica ho fatto. Ma sì, te sei la maestrina che dice tutto, ho capito, tutto perfetto, infatti perfetta niente. Tesoro, siamo diverse, io sono tanto orgogliosa di essere diversa da te, ma sono tanto felice. Più vera.